tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle char ma non avete mai osato chiedere per noi ma per chiunque ci segue da casa se avete un problema hashtag chiediaconsuelo sono completamente attrezzata per risolvere qualsiasi quesito parlo di una cosa che non è debolezza non è buone maniere non è ipocrisia ma una nuova relazione tra le persone sarebbe giusto sano possibile anche online riappropriarsi di una sana lentezza che ci puoi dire su questo cosa vuol dire davvero essere una start up per la tua giovanissima età oggi in italia dieci arano effettivamente gli strumenti per decodificare di interpretare correttamente questi dati avessi la bacchetta magica quale sarebbe la tua ricetta segreta per rendere davvero un'azienda smart se non hai coscienza non è neanche intelligenza le nuove generazioni che cercano nel purpose ovvero nello scopo delle proprie azioni veramente la realizzazione tutto questo è molto altro ad hr paradox ci vediamo online ciao ciao